Dopo la prima Summer Nights per l'avvio dei saldi estivi, il Valdichiana Village ha ospitato il primo grande concerto in collaborazione con Radio Subasio Music Club. Ospiti di questa estate è Aretina che unisce musica e shopping, IT Romancino. Si prosegue con Ermalmeta, sabato 20 luglio, ultimo appuntamento con i Comacose, tutti alle 21, ad ingresso gratuito. Quindi sicuramente un'estate ricca di eventi e come amo ricordare sono tutti eventi ad ingresso libero che inizieranno a Leone 21 e quindi siamo sicuri di regalare una bella emozione per l'estate di tutti i nostri ospiti. Ecco come una struttura di questo tipo che è indubbiamente una meta commerciale per lo shopping però può creare indotto a livello anche turistico per i territori di riferimento? Il legame con il territorio, in particolare con i borghi che lo caratterizzano, è molto forte. Valdichiana Village va ad ampliare quelli che sono i motivi di scelta del nostro territorio. Oltre dagli amanti dell'ambito turistico legato all'ambito culturale, folcloristico, odeno-gastronomico, Valdichiana dà la possibilità di trovare anche a tutti coloro che amano lo shopping e la moda una destinazione che è caratterizzata da 120 negozi, dei marchi più importanti in ambito nazionale ed internazionale. Ecco in questo senso l'Unione fa la forza e noi siamo in grado di migliorare quelle che sono le performance anche del territorio. Grazie 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 Grazie